bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e oggi ragazzi siamo qua su clash royale perché finalmente dopo un bel po di giorni sono riuscito a registrarvi l'apertura del baule giant eccolo là che già lo stiamo vedendo sotto negli slot e apriremo anche il baule del clan attenzione prima però prima però con calma con calma ti ho fatto una bella partitella in ranked così con il nuovo deck vediamo di andare a prendere le 4400 coppe non sarebbe affatto male siamo contro Tiok degli Onukukoi non sappiamo bene che clan sia ma apre subito con un giant all'undice andiamo a spargere giù spargere giù un paio di arcieri sulla sinistra vediamo come va lui a rispondere a questo attacco direi con questa tesla ci può stare e andiamo anche con fireball tronco in modo da spostare sia il suo moschettiere che il suo drago che il suo gigante tesla più due torri possono tranquillamente fermare l'attacco del giant inviolate alle torri a 2 minuti e 20 dall'inizio della partita vediamo un pochettino come poter riaprire qua la statica è quella di giocare il peccone quando siamo nell'overtime split di barbari per lui molto molto prepotente niente io vado ancora con uno split di arcieri non ho nessuna fretta non ho nessuna fretta di lanciare il mio attacco lasciamolo pure entrare tranquillamente qua addirittura ci dovrebbero pensare gli arcieri ed è qua il momento di giocare il peccone in modo da proteggere sempre gli arcieri lasciare andare anche gli sgherri bene così il peccone super cattivo dovrebbe girarsi sul giant bene così che si gira ok lui va di frecce io posso andare allora subito subito con log rider vediamo se lui ha modo di giocare una difesa ovviamente no perché ha spregato 3 di frecce log rider che entra di prepotenza full vita già è la terza martellata quarta martellata per log rider 5 martellate per log rider 1.4 e 26 la torre di sinistra 1.9 e 93 la mia in basso a sinistra lui adesso andrà con il giant davanti al moschettiere vediamo se l'azzecco no è un drago è un drago e allora andiamo a spendere 6 anche noi di elixir per fermare almeno il moschettiere il drago ci può attaccare senza troppi problemi qua dobbiamo stare tranquilli perché lui avrà i quattro barbari che può giocare tranquillamente per counterare il mio grader quindi eccoci qua siamo nell'overtime quindi possiamo giocare molto meglio il peccone ragazzi di nuovo split di arcieri pecca alto in modo da deviarli andiamo con il nostro spiritino del ghiaccio per splitare un attimino tutti quegli sgherroni ancora un po' di pazienza ancora un po' di pazienza e qua io partirei con grader sgherry subito di prepotenza salviamo il pecca raga salviamo il pecca e la fireball ovviamente sopra il quartetto di barbari danneggiare anche la torre il mio arciere cattivo al 12 va a farsi ben due barbari qua andrei di nuovo con il pecca sul giant e non solo giocherei anche la tesla un po' spostata peccato giocata leggermente male ma fuori dall'area di attacco della poison ok ok può tornare il peccone all'attacco vediamo se riesce a tirare una legnata no all'arciere non gliela tira non gliela tira lui gioca i barbari molto bravo molto bravo a giocare questi barbari ai 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 è un po' più dura adesso ragazzi andiamo con una fireball così ok prendiamo un po' tutti andiamo anche con il pecca e dobbiamo anche congelare il giant guardate che meraviglia quella come si dice quella tesla che ha fermato anche il suo drago i miei sgherrini sopra i suoi sgherri necessari in questo frangente andiamo a spettare gli arcieri in realtà li giochiamo centrali 4 5 6 7 vai gioca i barbari gioca i barbari andiamo in predict andiamo in predict la predict è ottima ragazzi boom mega attacco cattivissimo 74 andiamo con il tronco deviamo i barbarozzi scelti e tronco senza problemi che tira giù la tower eccezionale eccezionale andiamo a prendere ragazzi le 4.400 coppe molto molto bene 4.428 già che apriamo un po' di roba ci apriamo subito un argentino veloce così così 85 di gold un goblin cherboz e 13 xyuder royal questi purtroppo non ci servono 94 di gold per il secondo argentino uno scaricucciolo molto bene questo invece mi piacerebbe averlo alto e 13 tesla e vai tesla quasi a livello 13 ragazzi ma devo ancora potenziare gli arcieri via anche col terzo argentino 75 di gold 1 per 3 moschettieri e 13 mortazzoni ma andiamo ad aprire il baule quello che ci interessa che è il baule giant andiamo a vederlo subito attenzione attenzione 5 skip 9.24 per loro arriva subito un'epica è la clonazione peccato peccato vamosco 13 rocket questi non mi servono 245 tesla ragazzi molto good shaman per le 245 tesla sono 4 giorni di richieste schippate e 49 valchirie di marzio pudu che gliele andiamo a dare prima di andare ad aprirsi ragazzi il baulozzo del clan un'altra partita di buon auspicio vediamo se saliamo ancora un pochettino sempre 4.428 siamo contro due linee ondulate del clan molto famoso nella indocina orientale dunque vediamo un pochettino con lo spirito del ghiaccio l'apertura più che pulita direi più che pulita lui non risponde apro anche con gli sgarri lui va di fireball sul spirito del ghiaccio gg zio gg vai 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 con log vai con log vediamo dove gioca lui c'è la struttura questo non ha la struttura ha un quintetto di sgarri che purtroppo con il vortex che non mi aspettavo vengono spostati va bene fa niente fa niente fa niente lasciamo che ci pensi la torre anche se subiremo un po' di danni non possiamo giocare nessuna truppa in difesa dobbiamo lasciare che vada così va bene non c'è problema spingerei ancora sulla sinistra con gli arcieri vediamo un pochettino questo cosa fa mi pallafuoco agli arcieri adesso ti prego pallafuoco no non mi pallafuoco gioco una strega all'otto una strega all'otto raga pecca davanti vediamo quanto si spaventa del pecca davanti questo vediamo cosa mi gioca un cimitero what what ragazzi ma quando io giocavo competitivo a clash royale non si giocavano così cimiteri poi io li giocavo lo stesso gioco gli upgrade completamente a cazzo però va bene nel senso suino che non tira suino che non tira urco giuda ma veramente sei serio are you very seriously proviamo con un oh shit oh shit non ci credo non ci credo mi entra di prepotenza così e mi butta giù la torre shit 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 ragazzi ai 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 questo mi ha fregato mica male mi ha fregato mica male andiamo a pulire un attimo tutto con la fireball vediamo un pochettino qua se riusciamo a recuperare un minuto e 14 la partita ma non pensavo non pensavo riuscisse veramente ad entrare in questo modo così prepotente c'ha pure il vortex quindi sono abbastanza rovinato qua l'unica è tentare subito un pecca veloce dietro all'ultimo minuto e supportarlo fino alla fine vediamo cosa fa lui lui gioca una fornace non mi interessa assolutamente non la vado neanche a considerare quella fornace potrei andare di hog rider eventualmente sulla fornace in modo da giocare poi gli arcieri dietro gli sgherri ancora più alti la fireball e il tronco vediamo un pochettino cosa succede così lui va a far bollare di prepotenza ma io potrei partire così fa il bollare attenzione ancora attenzione ancora 30 secondi dalla fine lui ha il vortex meravigliosa la gelo sui suoi sgherri peccato è entrata molto in ritardo peccato 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 sarebbe stata una grande giocata invece la partita viene persa purtroppo così non possiamo fare molto più di questo lui addirittura prepotentissimo con furia e tutta la bella compagnia proviamo solo così 7 6 niente vortex peccato questa potevo tranquillamente non perderla peccato 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 lascio la torre a 8 e 96 fa niente fa niente mi dispiace mi dispiace questa non doveva vincerla non doveva vincerla andiamo comunque ad aprire ragazzi il baulozzo 10 su 10 del clan vediamo un pochettino cosa ci riserva speriamo la leggendaria 1620 di gold molto bene per l'apertura 28 caballeros questi invece non mi interessano 52 goblettini ni ni intanto ciclo il deck anche con i goblin arrivano 77 spiriti del ghiaccio questi invece li uso di brutto molto bene avanti ancora 3 skip 82 mortazioni non mi interessano ancora 3 scusate ancora 3 27 torre inferno se mi arrivano le epiche adesso potrebbe esserci la leggendaria e c'è la leggendaria attenzione non l'aspettavo non l'aspettavo tronco 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 ragazzi prima di aprire la leggendaria dai un bel pollizioni su se ancora vi piacciono i videozzi di clash royale ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale anche se volete giocare con me a fort night pronti per la leggendaria vai oh la fuorilegge cattivissimo peccato avrei sperato in un tronco va bene ragazzi direi che con questo fuorilegge sperlucicante io direi che il video può finire qua vi ringrazio tantissimo per averlo guardato vi ricordo super like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto ciao